Abbiamo cercato di giocare anche in fase non solo di un possesso, sono stati bravi, spero di recuperare qualche ragazzo che avevo fuori. L'importante oggi era che nessuno dei miei ragazzi si facesse male, quindi sono soddisfatto della prestazione come stiamo stati in campo con una squadra di serie superiore, ma non ci deve fare illudere perché il campionato è un'altra cosa. A parte gli stimoli che può dare un derby che da tanti anni non si giocava, si è pure inamichevole, però insomma la squadra è parte concentrata in ogni zona di campo. Sì, questo è vero, ma io non l'ho caricata questa partita perché per noi era una tappa di avvicinamento per il primo settembre. Ripeto, ci sono state partite amichevole dove ancora ho ragazzi fuori che non abbiamo recuperato e una squadra come Guadalupe Casca Stato non può permettersi di regalare in questo campionato molto molto difficile perché dà il doppio salto dei giocatori importanti e quindi oggi, ripeto, l'importante era non farsi male. E poi ci siamo riusciti e oltre a questo abbiamo abbinato anche una buona prestazione. Abbiamo dei giocatori importanti, magari non proprio di singoli, però bisogna parlarne di Nagna Centrocampo, della coppia d'attacco, della coppia centrale difensiva, insomma. Beh, è un ragazzo che è cresciuto, ha vinto come campionato di eccellenza, poi l'anno scorso era partito non titolare, poi una volta, parliamo di poppica, una volta che l'ha fatto giocare e non è più uscito, sta crescendo, è un 93, secondo me ha dei margini di miglioramento, è un ragazzo che vuole apprendere, e, certo, sotto la guida, come io dico, del mio nonnetto, mi sugge il nome del mio capitano di tempesta, insieme a lui sta facendo bene, e quindi, ripeto, devo fare i complimenti anche sotto quota perché non era semplice entrare in partita, era un derby e quindi ci steneva a fare bella figura, ma sempre con molta tranquillità perché era un amichevole. Allora, modulo nuovo per il Gubbio, non ha convinto Gucchi? No, 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 io non sono assolutamente dispiaciuto di questa gara, ovvio del risultato perché l'idea che dobbiamo avere noi è sempre di giocare per vincere, però sapevamo l'insidio perché, al di là del fatto che era un nuovo modulo, ma insomma, i moduli alla fine dicono poco, però giustamente provi cose diverse da quelle che abbiamo fatto per un mese, quindi ci poteva stare un po', è la prima partita che facciamo in maniera ufficiale, quindi qualche difficoltà la potevamo incontrare. E poi di fronte a una squadra che comunque sia, è ben organizzata, è ben stimolata, insomma, e poi insomma, sono squadre che ti mettono magari più in difficoltà di altre che giocano e quindi ti lasciano spazi. Non sono stati bravi perché sono stati molto accorti, ci hanno lasciato poco spazio in mezzo al campo, quindi eravamo spesso costretti a giocare sulle fasce e insomma abbiamo creato tanti cross e tante palle buttate lì, però ci è mancata sempre la stoccata a vincente, quindi è questo un po' dove dobbiamo lavorare, dobbiamo sicuramente migliorare, però ho visto un'ottima fase difensiva, dove abbiamo tenuto bene, abbiamo messo spesso fuori gioco gli avversari, abbiamo accorciato bene, il primo tempo eravamo un po' spezzettati, perché facevamo un po' fatica ad accompagnare con la difesa quando avevamo palla e gli attaccanti erano un po' pigri perché non tornavano molto, però nel complesso penso sia stato, è accaduto quello che mi aspettavo, ripeto, tranne il risultato perché alla fine uno spera sempre di vincere queste partite con difficoltà, ma sicuramente quella è la cosa che non mi piace di questa guerra.